salve dunque di earthly paradise è il titolo e anche la forma del mio contributo al progetto il paradiso e le sue rappresentazioni sono qui per presentare brevemente il lavoro appunto che è stato possibile vedere negli spazi dello studio Campoboario dicevo il titolo e la forma il titolo in inglese è il paradiso terrestre e quindi il paradiso terrestre ha tutta una serie di evidentemente connotazioni dal punto di vista religioso letterario e ovviamente si relaziona anche a diversi ambiti di natura culturale culturale intendo con la c minuscola insomma nell'accezione più ampia quindi in che modo era possibile trovare una formula uno scamotage per poterlo appunto rendere accessibile e visualizzarlo se non quello di scriverlo ma non direttamente cioè di farlo descrivere e di farlo scrivere all'accuno all'accumulo di oggetti di materiale trovato per lo più lampade oggetti trasparenti materiali trasparenti ma anche di qualsiasi altra natura quindi c'è stata una ricerca negli spazi che ha portato a un archivio di materiali con il quale è stato possibile inscenare il testo in una sala negli interrati buia di earthly paradise era anche il poema epico che william morris scrisse tra il 1868 e il 70 un poema in versi che utilizzava diverse forme metriche era una specie di appunto di miscela di varie modalità di scrivere e si rifaceva sia quindi alla tipologia della metrica greca sia a quella delle saghe medievali della cultura nordica ed è stato appunto anche così un riferimento al quale mi è andato il pensiero anche se appunto in realtà non è solo e soltanto quello ma sostanzialmente e vado a concludere per non farla troppo lunga quell'attingere a un certo tipo di ambiente artistico nord europeo e in particolare alla cultura visiva belga infatti quest'idea qui è figlia senza altro figlia mi non ho diciamo la mia parte è quella di aver tentato di riutilizzare un procedimento e quindi mi sono in parte ho guardato un allestimento di quest'anno che ho visto solo online ovviamente di Chris Martin allo smac di Ghent ma anche al festival della luce che si fa al Ghent light festival che si fa più o meno regolarmente da parecchi anni a distanza di due tre anni l'uno dall'altro dove appunto la presenza della luce come in questa installazione site specific così si dice per il progetto il paradiso e le sue rappresentazioni che sta un'idea corale fatta a più voci e alla quale Alberto D'Amico mi ha carinamente e gentilmente per il lungo sodalizio che ci lega mi ha invitato a partecipare e quindi io concluderei poiché il mio intervento in realtà spero possa essere poi in qualche modo documentato da delle riprese interrompo qua il mio contributo e mando un saluto a tutti quanti grazie grazie